L'aggressione L'aggressione con un grosso coltello da cucina sarebbe avvenuta in due tempi ravvicinati senza essere apparentemente preceduta da un litigio. Dopo un fendente inferto nel piazzale davanti casa, venne stato un secondo mentre l'aggredito tentava di mettersi in salvo in auto. Una parte dell'aggressione è stata ricostruita dai poliziotti grazie all'esame dei filmati girati da un impianto di videosorveglianza nei pressi del casolare. Il resto è stato riferito dall'ex moglie e dalla madre di lei che insieme all'aggressore stavano caricando i bimbi in auto. Diversamente da quanto emerso inizialmente, l'uomo avrebbe trascorso la notte nella cascina dove poco tempo fa si era trasferita la donna con la madre, il nuovo compagno e i tre figli piccoli. Ma a quanto pare lei aveva intenzione di chiedere il divorzio dall'ex marito. Il ferito, originario della Lombardia, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Pesaro dove è stato sottoposto a un delincato intervento chirurgico. L'indagine sulla vicenda è condotta dal PM di Pesaro, Fabrizio Giovanni Nardone. L'egiziano è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Pesaro per tentato omicidio.